partite lungo la corda Royal Xenia si mantiene in vantaggio avendo all'esterno Regina Viarum poi in seconda linea all'interno Royal Rhapsody seguono all'esterno Invincible Tora in seconda linea Pacaya poi anche Bubuz siamo ora a 400 dal palo con Royal Xenia che prosegue in vantaggio Regina Viarum si propone al suo attacco per linee interne cerca di risalire Pacaya poi ancora Royal Rhapsody e Bubuz siamo a 200 dal palo Royal Xenia sotto la minaccia di Regina Viarum e quindi Bubuz che cerca di risalire nel finale Royal Xenia si mantiene in vantaggio nei confronti di Bubuz che risale al posto d'onore davanti a Regina Viarum al quarto posto Pacaya andiamo a rivedere le immagini con Royal Xenia e Carletto Fiocchi a bersaglio in questa prima corsa di Napoli con numero uno ha preso subito il comando per poi mantenere la meglio dipendendosi da Regina Viarum e poi dal finale di Bubuz quindi primo il 10 di Royal Xenia secondo il 2 di Bubuz al terzo posto l'8 di Regina Viarum 10-2-8 il probabile e ufficioso arrivo della prima corsa di Napoli grazie a tutti grazie a tutti